Il mondo che fa presa di un'opportunità è il nostro lavoro. Questa è una volta che non dicono niente, non è che ci sono esercizi di cultura, di intelligenza, poi gli argomenti sono sempre uguali, sempre le sedi poltrone che si che parlano. E dicono anche che non essendoci più Berlusconi come contro Caoccia, non fa più... Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, 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 non c'è. Onestamente per quello che ho visto, lui è un bravo giornalista, il giornalista era bravo, certo si deve guadagnare questi soldi perché per quello che ho fatto fino adesso non ne ha meritati, insomma e per il tempo passa più difficile diventa. Io ho parlato con Carlo, io mi auguro che sia fortunato a trovare le canzoni, perché il problema è gravissimo, perché purtroppo i cantautori hanno rinomato la musica leggera bene, sono andati Dalla, Baglioni, poi l'hanno distrutta perché poi si cantava soltanto la loro roba, sono morti gli autori di parole e di musica, quindi tu una canzone sola non la annuncerai più, ora Sanremo puoi fare tutto quello che vuoi, ma se non ti porti tre canzoni a spasso, che almeno per un anno si cantino, come se non l'avessi fatto, tu dimmi da due anni fa chi vinse Sanremo, l'anno scorso chi vinse? No, poi non c'è Andreino, carità, faccio il padrino a distanza.